La lite di via Mantova-Rivazzurra, scaturita tra due rumeni nella notte tra il 12 e il 13 marzo, potrebbe avere come causa il cosiddetto diritto di marcia a piede, secondo quanto trappela dalle indagini della squadra mobile di Rimini. E' dunque legato ad una vicenda di prostituzione all'accoltellamento di un 32enne rumeno ferito dal 28enne cognato, nato e risidente a Bucharest, fidanzato con la sua sorella, una ventenne rumena, forse costretta a prostituirsi. Il 28enne è stato accompagnato sul luogo del tentato omicidio da un altro connazionale, ha colpito il 32enne due volte l'addome ed è scappato. L'aggredito ferito e sanguinante ha chiesto quel punto aiuto in un bar. Qualche ora dopo la polizia ha rintracciato l'aggressore in un residence, dovrà rispondere di tentato omicidio e possesso di atti ad offendere. Nella stanza è stato rinvenuto il coltello con la lama ancora insanguinata. Il complice, un rumeno di 24 anni, è stato invece rintracciato ieri pomeriggio. Il ragazzo si nascondeva in un residence di via Regina Margherita e per lui l'accusa è di concorso in tentato omicidio. Vani i tentativi di due rumeni che si sono presentati in questura con un alibi fasullo per il 24enne. Sono stati entrambi denunciati per favoreggiamento personale. Il 32enne incensurato e in discrete condizioni la prognosi di 30 giorni potrebbe essere dimesso tra qualche giorno. È stato lui ad incastrare il parente e il complice attraverso il riconoscimento fotografico. Il fenomeno triste della prostituzione qui a Rimini è molto sentito, su cui noi siamo molto attenti e cerchiamo di rispondere colpo su colpo ai vari episodi. Non ultimo questo sta a dimostrare che possono sorgere dei contrasti in seno alle organizzazioni circa la gestione delle piazze, dei cosiddetti diritti di marciapiede. Presumiamo che l'attentato ai danni di questo rumeno possa essere sorto in seno a un diverbio avvenuto per la gestione delle donne.